Oh mia regina, mia regina, quest'oggi mi dovrai aiutare a vincere Allora, quest'oggi facciamo la regina challenge, praticamente Fere la regina mi dovrà dare gli ordini Fere The Queen, scusa Lo so, ok Ti stanno tutti insultando qui nei commenti per questa caduta di stile Che cosa, sei la regina? Fere la regina, no, è Fere The Queen, Stef Fere la regina Fere, sei tu la regina Ok Devi decidere dove scendiamo, devi dirmi gli ordini, eccetera, eccetera Mi hai già rovinato l'intro, quindi adesso non dico più nulla Beh, perché hai deciso tutto niente Non hai messo dove scendere? Più tardi, dillo Funziona in questo modo Fere è la mia regina, quindi decide tutto lei Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vediamo dei player, io non posso spararli finché lei non me lo ordina Lei può fare quello che vuole di sua spontanea volontà, perché appunto è la regina Ma io posso solo eseguire gli ordini talmente specifici Che se vediamo dei player, lei mi dovrà dire sparali, altrimenti io non potrò spararli Ma allo stesso tempo mi dovrà dire puoi sia sparare che billare Altrimenti io potrò soltanto sparare Quindi lei alla fine tilterà tantissimo perché dovrà pensare a giocare lei Eppure dire io che cosa devo fare Quindi non è forse tanto bello essere una regina Steph, ci sono due team Dammi degli ordini Mio prode, sparali se li vedi Grazie Ok Troppo tardi, sappi, non l'avevo lazzerato se potevo Mio prode, protettore, c'è qualcuno che mi vuole importunare qui dentro, dovrebbe venire ad aiutarmi Deve darmi ordini, non deve darmi informazioni E venga qui a uccidere questi stolti Non ho grandi cose, però lei me lo sta dicendo quindi io devo andare allo stesso Qui al bancone, lo devi sparare Lo devi uccidere, ha tirato una granata Non c'è più Ok, grazie Steph, non si può giocare così, io te lo dico già Cosa devo fare adesso di lui? Lo finiamo ovviamente Ok A piccolate Prenda il piccone mia regina E anche le granate Le faceva pompa Sì, beh Il piccone, il piccone c'è lo dico Sono un servitore promotivo Arriva qualcun altro Allora, se lo devi sparare E se ti spara ti devi proteggere costruendo Quello me lo dovresti dare però Che cosa? Non devi far finta di niente Cosa, scusa? Maledetto schifoso che non sei altro Non capisco di cosa lei stia parlando Cosa devo fare quindi? Allora, se ti spara ti devi coprire Vabbè Gli ho fatto 96 di headshot Andiamo mia regina Anzi, mi dica lei Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo gli altri Stanno combattendo Andiamo dove ci sono gli spari, no? Eh, ma lo deve dire lei Non mi deve fare domande Non era una domanda Era una domanda retorica Ok Non conosco le domande retoriche Sono Stef E l'ammazza tutto Ma ogni volta che vediamo dei preti Devo dire Sì Devi sparare Se no Cosa devo fare adesso? Li devi uccidere Se ti colpiscono Costruisci Ma non Lo devi far ripetere ogni volta Stef Non c'è più mia regina Grazie Mi sta stilando tutte le kill Ma vabbè Prenda il loot È un po' troppo intraprendente Lei Sinceramente Cosa devo fare mia regina adesso? Dobbiamo cercare l'ultimo Mi sa che c'è un altro Posso coprirmi? Sì Te l'ho già detto L'ordine vale Stef E te l'ho già detto Se ti sparano copriti Ma lo posso sparare? Sì Ogni persona è a sé Magari questo qua è un bravo suddito Te l'ho specificato Vale per questo momento Non funziona così mia regina È un modo brutto di giocare un game Dove sta? Dentro la casa mia regina Devo entrare dentro la casa e sacrificarmi mia regina Secondo Tiriamo due granate di benvenuto Cosa devo fare io nel mentre? Lo cerchiamo Vieni È qui fuori È qui fuori Fatto fatto Ecco l'arma che prima mi avevi rubato Finalmente Di cosa parla mia regina? Che lei fa schifo Non ho mai visto nulla di simile Certo come no? Anzi sto già farmando Cosa devo fare mia regina? Farmiamo un po' di legno e poi ce l'andiamo Grazie mia regina Un po' di legno e un po' di materiali Tu stavo già facendo Posso anche luttare mia regina? Sì Grazie regina Stef non fa l'imbecille però eh È la challenge L'ho capito È l'imbecille challenge questa L'hai cambiata così? Sì Ok Adesso non solo devo pensare a me Perché poi io devo giocare Non è che me lo deve star ferma Quindi devo pensare a me Devo pensare a te Esatto È una figata Difficili Per me è difficile Certo che è difficile Però io non potevo farlo Perché sono tutti che sei ferene queen Quindi non potevo essere io il re No assolutamente Sarebbe scoppiata l'apocalisse nel canale Quindi ho dovuto per forza darti questo difficile ruolo Posso anche spaccare il ferro sull'egno? Ho detto materiali Quindi fatti i mattoni Fatti il ferro Grazie regina Non so cosa significhi materiali Dai Stef È un po' tonto allora Va bene Sì mi è regina Allora comunque ho appurato Che lei sa sparare Quindi Sì Bella mira io La sua funzione principale la sa adempiere Quindi va bene Va bene Ok Cos'è questa roba? Stef Fai cazzo Mia regina Cosa devo fare con questo? Lasciamo perdere gli tubi Sicura mia regina? Se vuoi farmeli ti danno lo shield che ti protegge Grazie mia regina Non lo sapevo Ma Che sono? Ah eccoli Ok Sono povero mia regina Eh lo so Soprattutto di colpi Siamo poveri vero? Sì Non stanno aiutando molto Sta bene mia regina? Stanno dando solo colpi piccoli Sti robbi Uno scillone mia regina Ok Eh te lo vuoi bere? No vada lei Mia regina Non c'è bisogno Dai basta Basta Posso andare a fare altri zombie? Sì Grazie Non ho nulla Sono povero Allora a me mancano D'altronde sono un suddito Più che altro colpi Stanno sparando mia regina Oh qui sopra? Sì mia regina Andiamo a vedere se riusciamo a ucciderli Ok mia regina Quando li incontro cosa devo fare? La stessa cosa che ha fatto per i precedenti Non ricordo io Ho la memoria di un cricetto Deve sparare Se ti colpiscono Ti devi proteggere con la legna Con i mattoni o col metallo Stanno seguendo gli zombie Aiuto Grazie mia regina Aiuto C'è qualcun altro mia regina? Dove sta? Non ho idea mia regina Eh Dobbiamo trovarlo Penso io mia regina Perché poi se ci prende alle spalle ci uccide Lo sai Eccolo mia regina Non sarà più un problema mia regina Io non faccio più nulla qua C'è un P90 mia regina Ma me ne vado via Me ne vado via Ho due rip to go comunque C'è neanche un terzo Ok mia regina Non so se tu hai qualche slot L'ha preso il P90? No E qui? Dov'è? Qui Eh ma il problema È che ho anche un lancio razzi Riesci a tenere dei rip to go? Sì mia regina Tutto quello che le vuole Se vuole io tengo solo medikit Dov'è il P90? Lì mia regina Ma è lì? Ha qualche problema Allora questo E questo Non l'avevo visto Sto guardando qua Grazie mia regina Tieni Eh ho anche tre medikit Però mi sembra che tu stia andando bene Non stia prendendo colpi Quindi va tutto bene Arrivo mia regina Non ho visto nulla Non si ride delle regine Io non ho visto nulla Io non ho visto nulla mia regina Non ho idea Grazie per il percorso Non ho idea di che cosa Si è accaduta lì Posso tirarmi questo scillone mia regina? Sì Grazie mia regina Che noio Io non lo sopporto più Perché dobbiamo fare le challenge insieme? Oh no Posso picconare sto robo? Sì Grazie E sparare quello che esce? Sì Grazie Purtroppo siamo in un mondo un po' ambiguo Quindi succedono cose brutte in sto mondo Com'è messa con i colpi mia regina? Benino Colpi dell'assalto sinceramente un po' mi mancano Le ne posso dare un po' mia regina? Sto ricaricando un secondo Sì Ecco fatto Cosa devo fare mia regina? Andiamo Stanno sicuramente formando gli zombie Quindi proviamo a prenderli alle spalle e ucciderli Ucciderli in che modo? Sparandoli Dai Steph Ok mia regina È qua è qua è qua Mia regina questa gente è brava Eh l'ho capito Ma che dobbiamo fare? Uno è giù Dov'è l'altro? Non ho idea mia regina Stia attenta Da dove? Si ci spara con la balestra Dall'altra montagna 210 Ci dobbiamo spostare È una bruttissima zona Ah ok Arriva l'altro però L'amico di questo Ma dove sta? Qui L'ho ucciso Ottimo lavoro mia regina Grazie Ero molto concentrata Mi scusi se non le stavo dando ordine Nessun problema mia regina Vogliamo andare via? Sì Sì Perché quelli ci stanno discerbando Devo utilizzare ciò che ho in mano? Sì Ok Verso dove vorrebbe andare? Eh Boh qui Ci sparano con la balestra Senti Eh lo sento Lo sento Tranquilla Paro i suoi colpi Avrei preferito vedere la prossima zona Per decidere dove muoverci Infatti sto puntando Lei è molto saggia mia regina Sto puntando alla zona corrotta Perché almeno abbiamo i poteri Per poi muoverci velocemente Va bene mia regina Qua ci sono dei player mia regina Cosa facciamo? Prendiamo anche loro alle spalle Ok mia regina Ha una tattica sempre Sì io sono Monotattica mia regina Vabbè però se funziona Tattica vincente non si cambia Anche lei ha ragione mia regina Mi aspetti Sono indietro Va bene Qua è un player uno zombie Smetto di sparare mia regina? No vada 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 Io sto uccidendo uno Che nel frattempo combatte con gli zombie Come ha messo lei? No il mio player è stato ucciso da uno zombie Ma povero Verrà punito Quello zombie Mia regina è piena di gente È piena di gente Io non lo so se è una buona idea Fare quello che stiamo facendo Cosa devo fare mia regina? Sparare Si ripari che le arriva addosso Un botto di gente Mi raccomando Mia regina C'ho dieci kill Bravissimo È anche un'ordata di zombie Che la segue Già Ma quello non è un problema mia regina Allora Fammi luttare Ma ci sparano di nuovo? C'è un sacco di roba qui mia regina Da dove ci sparano? Anche qua Anche qua Non lo so Ho visto altri colpi Mi arrivavano probabilmente da 210 Sempre Ok Ma questa trappola chi l'ha messa? E i player cattivi mia regina Ok la spacco Bruttissime persone È un pazzo Mira col cecchino Vuole sniperare Si copra Devo coprire la mia regina 26 di vita Le ho tolto È molto brava lei regina Gli tiro dei razzi Posso andarli addosso? Vada vada Gli tiro dei razzi Distruggiamola Discusa 10 kill Ne vorrei di più Grazie Ok Siamo stati bravi Ho chiesto il permesso Sono stato bravo Sì Siamo stati una bellissima squadra Ok Sono molto felice E adesso mia regina? Non lo so Sto decidendo Facciamo chiudere la zona Perché non voglio andare al centro Potrebbe esserci qualcuno A queste parti mia regina Eh lo so Forse erano zombie Allora ne ho visto a 300 gradi Che stanno costruendo in questo momento Li vedo mia regina Cosa vuole fare? Stiamo dentro la zona noi Non lo so se mi esporrei troppo E anche qua ce ne sono Mi dica mia regina Però occhio Perché ne abbiamo ancora di più alla destra E i 300 gradi Intendevo più alla destra Decida lei mia regina Proviamo ad attaccare questi Questi a sud ovest Va bene mia regina C'è un boss E occhio proteggiti verso la destra Ok Va bene Li vede? Sì Certo che li vedo È un bravo player questo mia regina No Grazie mia regina Lo sa che io devo tirare i razzi però eh Non vedo il player È appena morto mia regina No è lì di fronte Ha preso un rift to go Ok mia regina Scappa Scappa Per uno mi sa che è morto Aiuto Aiuto c'è un boss qua Aiuto Scappi via mia regina Aiuto Sto osservando dall'alto Vai via Non mi seguire Vabbè sta metà vita Ma me lo uccido a sto punto Va bene mia regina Lei è molto coraggiosa C'è un altro rift to go qua Allo spazio per prenderlo C'è un cecchino se lo vuole Non mi interessa no Io sono una guardia del corpo Dove è Mia regina Che cosa? Il rift Dov'era? Mia regina Ma L'ho visto te lo giuro Sento sparare mia regina È sparito Andiamo dove sono gli spari Ah ecco l'è qui sotto È sotto il medikit Troppo tardi mia regina Vabbè Aveva ragione che l'avevo visto Spoonare E sdefinito sotto il medikit Vabbè Anzi Arrivo di nuovo Ma Ma Mi ha fatto andare qua ormai Sotto il medikit Lo vedo Lo prendo subito Era questo il vero ordine Preso Ah Gli zombie Basta Dobbiamo muoversi Mia regina ha bisogno di una mano? No Dobbiamo entrare dentro la zona C'è qualcuno qui Dov'è? Ma Ma È già partito Deve sparare Si ricordi Stia attenta mia regina Era un pazzo Questo Mia regina Mi copra Ci sono gli zombie Non riesco a tirarmi un medikit Aiuto Mi seguo mia regina La prego No no Mi sto sfidendo lo zombie Cioè io non ci credo Mia regina Dove sei? Mi vede? Sì ma anche lei ha degli zombie Ho bisogno di tirarmi Non c'è problema Un medikit Adesso può Che odio Costruisco delle strutture Randomiche Per confondere gli zombie E spero anche i player Spero pure io Non voglio morire mia regina Sono quattro vivi Lo so mia regina Siamo due contro altri due Lo so mia regina No gli zombie mi attaccano Un secondo Ti prego non mi toccare Ce l'ha fatta mia regina Lei è molto brava Sto scappando Sto scappando Li amazzi così facile Sento sparare comunque Sì Sì Io sto odiando sti zombie Deve trovare una cura per gli zombie Io glielo dico Visto che lei sa fare tutto quello che io ordino Ha visto i player? Mi hanno cechinato mia regina Perché lei è molto furbo Scenda giù Che sta facendo? Sto scendendo Mi vede? Sotto di lei Non capisco se sono dello stesso team Non credo No si stanno sparando a vicenda Per fortuna Abbiamo molta fortuna mia regina Perché altrimenti ci avrebbero distrutto per questo suo errore Lo sappia Assolutamente sì mia regina È stato un errore da stolti Vedevo un uccellino volare Io penso agli uccellini Mi piacciono Sono molto arrabbiato Non faccio mai più Questo è perché Li ha sparato Posso provare Astio? Ha sparato Senza il mio ordine È stato quello il problema Può uccidere questo zombie Grazie Tranquil Tutto a posto Sì può provare dell'Astio Infatti li dobbiamo uccidere E vendicarci Chitato Bravo Ma io non le avevo detto di sparare Ormai sta diventando bravo Si sta montando la testa E non sta più abbedendo i miei ordini Scusi ha ragione Devo tornare Vabbè gli stanno distruggendo Tutta la struttura però Sì è rimasto solo uno Ovviamente Vabbè aspettiamo si muova Tanto siamo noi dentro la zona Va bene mia regina È sceso è sceso Ci mira Occhio che ti ricechina Cosa devo fare Dobbiamo sparare Ok 31 di shield mia regina 33 33 di vita 33 di shield 33 di vita Tiro razzi Lo uccida Mi raccomando Non posso mia regina Come non può L'ho ucciso Deve farlo lei Perché io sono la regina degli esplosivi È ovvio Cioè mi sembra logico Cosa abbiamo fatto 15 kill No ma che cos'era Non lo so Cioè stavamo lì a scherzare Ce la siamo pure vinta A fare degli scemi tutto il tempo Regina challenge completata Abbiamo fatto gli scemi Di proposito In una maniera esagerata Perché era il senso della challenge Altrimenti era una challenge Normalissima Quindi dovevamo estremizzare un po' E non mi aspettavo Che avremmo fatto Quei tante kill Comunque tanto di capello Speriamo che il video vi sia piaciuto La challenge è andata alla grande Qua sotto come sempre Come agli altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao